Ritorno alla civiltà, dopo la vista del presidente della Camera a San Ferdinando, vertice in prefettura a Reggio, si viaggia verso lo smantellamento della tendopoli e un'accoglienza diffusa e poi giro di vite sugli schiavisti della Piana di Gioia Tauro. Emergenza dissesto e sopralluoghi del capo della protezione civile regionale sulla Costa degli Dei e sulla Costa Viola, situazione critica lungo la strada del mare all'altezza di Ioppolo, sotto controllo invece gli smottamenti a palmi. Tentacoli sulla 106, l'omicidio del boss Porto Raro potrebbe svelare gli appetiti famelici dell'andrangheta sulla statale 106, l'allarma e infiltrazioni lanciato dalle associazioni davanti al cantiere più grande d'Italia. Delusi da Oliverio, il sondaggio tra la gente, cosa ne pensano i calabressi dell'operato del governatore della sua giunta, la svolta civica del presidente della regione non sembra sufficiente a invertire la sua parabola discendente. Forza Cosenza, cresce l'attesa in vista della finale playoff che vedrà i lupi affrontare il Siena. I tifosi rosso-blu preparano l'esodo per spingere la squadra nell'epico ritorno in serie B. Buona martedì, da Alessio Bompasso, da tutta la redazione, bentornati al nostro telegiornale. In primo piano i temi dell'immigrazione. Ieri la tendopoli di San Ferdinando, come ricorderete la visita del presidente della Camera Roberto Fico che ha portato il cordoglio dello Stato dopo l'omicidio di Sumaila Sacò. Stamattina in prefettura a Reggio Calabria invece il punto sulle condizioni nelle quali troppi migranti ancora sono costretti a vivere e a lavorare. Il nostro obiettivo è smandellare la baraccopoli, eliminare la tendopoli perché riteniamo che sono due soluzioni molto molto provvisorie. Stato, regione, enti locali, forze dell'ordine, sigle sindacali scendono in campo per l'emergenza migranti. Stamattina il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha convocato un tavolo tecnico per discutere sulla baraccopoli e la tendopoli di San Ferdinando, nonché sull'inserimento lavorativo e abitativo per i lavoratori stagionali. L'iniziativa che vede partecipare CGL, CISL, UIL e OSB, il sindacato di cui faceva parte Sumaila Sacò, il maliano ucciso a San Calogero, è finalizzata ad assicurare ottimali condizioni di vita ai migranti e avviare relazioni con gli imprenditori agricoli in nome dell'accoglienza e della legalità. Dobbiamo creare ulteriormente e fare sforzi ulteriori per addivenire ad una soluzione che non può che essere un'accoglienza diffusa, in cui tutti siamo chiamati a fornire risposte esaustive e precise. Ma i tempi dipendono dalle condizioni che gli enti locali, le organizzazioni meditatoriali, le organizzazioni agricole, la regione e tutti gli enti forniranno risposte rispetto a questo modello che noi abbiamo immaginato di accoglienza diffusa. Angela Panzera per la Cineus24. Da un'emergenza ad un'altra ci occupiamo di dissesto idrogeologico, situazione critica a Ioppolo, problemi anche a Palmi, a verificare personalmente il capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi. Migliaia di massi pericolanti, sospesi, in bilico, senza reti o barriere che possano arrestarne la caduta, condizione che ha reso necessaria la chiusura al traffico dell'intera arteria. Una sorta di bomba ad orologeria fatta di macini che possono uccidere. Ecco come ha sintetizzato la situazione rilevata il capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi, insieme alla sua squadra sulla Ioppolo-Coccorino, per valutare tempi e modi di intervento per la messa in sicurezza di quella che avrebbe dovuto essere la strada del mare, ma che ben presto si è trasformata in una trappola. Ho visto una situazione assurda. Abbiamo centinaia, migliaia di massi, blocchi di rocce sospesi che da un momento all'altro, o per una pioggia di piccola lentità oppure una piccola scossa di terremoto, possono partire. Ad aggravare la situazione e la costruzione di una galleria, un'opera inutile per la fruibilità dell'arteria, ma per il capo della protezione civile, solo necessaria ad alcune logiche. Anziché continuare, finire, ultimare gli interventi a mondo, si è preferito, chissà per quali strani motivi, ma immagino ci sono interessi economici, di malaffare anche, realizzare questa galleria, che è all'inizio e che ha creato addirittura altre frane. Intanto la popolazione rumoreggia, da mesi ormai si susseguono settini di proteste e mobilitazioni, chiedono di uscire dall'isolamento che li ha messi letteralmente in ginocchio, ma per la completa messa in sicurezza e la riapertura della strada del mare bisognerà attendere almeno altri dieci mesi. Chiaramente la strada non si può riaprire in queste condizioni, però è opportuno che immediatamente, da domani mattina, partano i lavori di progettazione e che magari, chissà, per la prossima stagione estiva si possa avere la strada in perfetta sicurezza. E dal Vibonese al Regino, il Turra di Carlo Tanzi e la sua squadra è proseguito fino a Palmi, dove due frane hanno fatto scattare l'allarme. Credo che nell'arco di un 10-15 giorni al massimo il sindaco di Palmi caricherà una ditta per mettere in sicurezza il vestente prima dell'inizio dell'estate. Poi sempre a Palmi c'è un'altra frane di minorità, su cui stiamo installando dei sensori collegati alla nostra sala operativa e anche quando abbiamo un movimento inferiore al decimo di millimetro arriva un'allerta sul nostro telefonino, su quello del sindaco e immediatamente si blocca la circolazione del traffico lungo la strada. Alessio Buompasso per la Cineus 24. Torniamo ad occuparci per un attimo dell'omicidio di Sumaila Sacò, mentre l'arma impiega i cacciatori di Calabria per recuperare il fucile col quale è stato consumato l'omicidio. Domani la panda del presunto assassino sarà esaminata da RIS. Noi abbiamo intervistato il criminologo Angelo Lamarca, consulente della difesa dell'unico indagato per il delitto. Antonio Pontoriero. Al momento siamo nella fase iniziale dell'analisi di reperti sui quali si sta cercando di determinare se vi sono residui dello sparo. Da giorni gli esperti del RIS di Messina stanno analizzando i vestiti sequestrati e lo stub effettuato sulle mani e il volto di Antonio Pontoriero, il 43enne in carcere accusato dell'omicidio di Sumaila Sacò, il 30enne del Mali ucciso da un colpo di fucile a pallettoni, la sera del 2 giugno all'ex fornace La Tranquilla di San Calogero. Così come gli investigatori, anche il consulente tecnico Angelo Lamarca, nominato dall'avvocato Francesco Muzzo Pappa, sta monitorando gli accertamenti tecnico-scientifici. Ci vorranno almeno due mesi per sapere se sui reperti del RIS ci sono le cosiddette particelle unipoche, ossia pienamente compatibili con lo sparo, o indicative che potrebbero derivare dalla professione svolta dall'indagato. Gli accertamenti alla ricerca di eventuali residui dello sparo vanno coniugate con la circostanza che ancora, tra virgolette, l'arma del delitto non è stata ritrovata e che l'indagato fa l'agricoltore come attività professionale. Quindi è un'attività occupazionale in cui è verosimile l'utilizzo di concimi che contengano solfato di ammonio o comunque sostanze con base azotate che possono dare delle positività rispetto alla presenza di particelle indicative, quindi binarie. Angela Panzera per la CINUS24. Stamattina la Guardia di Finanza di Lamezia, con il coordinamento del procuratore Salvatore Curcio e dell'EPM Marta Agostini, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di sequestro nei confronti dei coniugi Michele Rutigliano e Lina Catanzaro, denunciando anche i figli Gioacchino e Domenico Rutigliano per bancarotta fraudolenta, dichiarazioni fraudolente e reati fiscali, sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro, mentre i componenti della famiglia Rutigliano sono stati destinatari di un provvedimento di interdizione dell'esercizio dell'attività di impresa e professionale. Le indagini delle fiamme gialle sono partite dal crack di due società, un'attiva nel fotovoltaico e l'altra nella carpenteria metallica. E adesso le malsane attenzioni dell'Andrangheta sulla 106 e sul più grande cantiere d'Italia, quello sul tratto Sibari-Roseto, un rischio adesso più che mai concreto alla luce dell'omicidio del boss Leonardo Portoraro. Alzare i livelli di allerta e fare in modo che la criminalità non entri nell'apparato pubblico. È quello che tornano a chiedere il mondo dell'associazionismo e i movimenti politici della nuova città Corigliano-Rossano e della Sibaritide. L'uccisione del boss Portoraro e l'ipotesi che il movente dell'omicidio, avvenuto una settimana fa a Villapiana Lido, sia scaturito proprio dalla smania delle cosche a mettere le mani sui prossimi lavori della Statale 106, ha indignato le forze sociali del territorio, che ora pretendono massima vigilanza da parte dello Stato. In questa zona ci sono cittadini che non hanno paura della criminalità organizzata che deve raccattare, come ha sempre fatto, i finanziamenti pubblici. Ci sono cittadini che hanno voglia di sviluppare questo territorio, di vederlo emergere e per farlo abbiamo bisogno che un'opera come questa sia uno strumento, sia dal punto di vista dell'infrastruttura di per sé, ma anche uno strumento per immettere del capitale pulito, per far lavorare gente pulita, aziende pulite, che ci sono, che magari arrancano, ma ci sono. L'andrangheta vuole questi denari e i cittadini vogliono invece controllare. La questione dello Stato sarà uno slogan, ma siamo davvero noi. Quindi un pezzo importante è la formazione di una coscienza critica, in questo caso una coscienza che è vigila da parte dei cittadini, che sull'onda della fusione hanno deciso di non rimanere inermi. E quindi con forza in un territorio che è stato scippato di un tribunale chiediamo di essere partecipi, soggetti assolutamente attivi, insieme alla Chiesa, insieme ai sindacati, a tutti coloro che ci stanno nella valutazione dei percorsi. Marco Lefosse per la Cineus 24 E adesso guardate queste immagini. Si riferiscono al depuratore di località San Giorgio di Briatico, lo stesso è al centro di un'indagine della procura di Vibo Valencia, che ha disposto il sequestro preventivo di un bypass illegale attraverso il quale i reflui non depurati del comune costiero finivano direttamente in una condotta sottomarina e quindi in mare. La mancata depurazione dei reflui e l'ipotesi della procura avrebbe consentito all'impresa detta al depuratore di incrementare illegalmente i propri introiti finanziari. L'inchiesta va avanti per accertare le singole responsabilità di natura penale. E adesso la pagina della politica. Il governatore Oliverio annuncia una sorta di svolta civica e guarda così alle prossime regionali. Ma che giudizio danno i calabresi all'operato del Presidente della Regione? Io l'abbiamo chiesto, sentite. E' molto regionale e ho dato fiducia a Oliverio, giustamente. E' rimasto deluso o è soddisfatto? E' rimasto deluso veramente perché mi aspettavo un po' meglio. Già si parla del ritorno alla candidatura di Oliverio che io ritengo assolutamente da escludere. Secondo me dovrebbe essere già pronto a dare la dimissione per quello che si vede in Calabria. Ha fatto solo parola all'inizio quando si è insediato. Cosa ne pensa di questo governo regionale? Per me che ho fatto politica è stata una delusione completa. Perché c'è tanta di quella gente nella regione che non fa un cavolo dalla mattina alla sera. Lei aveva dato fiducia a Oliverio? Sì, certo. Eravamo anche compagni di partito. Io ritengo che ci siano dei problemi per quanto riguarda per esempio l'abitare. Proprio il governo regionale, visto che adesso l'Aterp è a livello regionale, il presidente Oliverio debba dare una spinta per quanto riguarda questo aspetto qua. Lei aveva dato fiducia ad Oliverio? No. Ritengo che non è cambiato nulla. Come eravamo, siamo. Il 106, la ferrovia, la sanità. Ogni giorno chi si sente in televisione che litigano Scura e Oliverio. Io non sono mai stato soddisfatto di nessun governo regionale. Si avvicendano le classi politiche di varia estrazione, ma i risultati non cambiano. Nel turismo, nel commercio, nel terziario. Chi ha dato fiducia alle ultime elezioni regionali? A Oliverio. Ed è rimasto soddisfatto di quanto ha fatto? Per quello che sta facendo, sì. Noi vorremmo chissà che cosa, ma le risorse economiche sono quelle che sono e quindi non può andare più in là. Rossella Galati per la Cineus 24. Intanto ieri a Rende l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando ha riunito, su iniziativa del consigliere regionale Carlo Guccione, i suoi fedelissimi, ma non sono mancate presenze a sorpresa. A raccogliere i cocci di un PD andato in pezzi soprattutto nel mezzogiorno e nella stessa Calabria dove il Partito Democratico governa dal 2014, ci prova Andrea Orlando con l'associazione DEMS che ha in Carlo Guccione il suo riferimento più autorevole a livello locale. Sul tavolo una nuova proposta programmatica per riavvicinare la politica alle persone e l'idea di creare spazi per una nuova classe dirigente in grado di subentrare a quella responsabile degli ultimi fallimenti. L'ex ministro della giustizia ha partecipato ad un incontro ospitato a Rende al quale sono intervenuti anche altri esponenti del partito in seno a Palazzo Campanella. La partita del consiglio regionale è aperta e la campagna elettorale è alle porte. In questa prospettiva DEMS mette in campo la propria proposta politica per rinvigorire un PD in grave affanno incapaci di porsi in discontinuità con il passato. Va ripensato il PD, va fatto con un congresso, bisogna dargli una nuova leadership e bisogna dargli delle nuove idee, a partire da parole più chiare sul tema del mezzogiorno. Guardo sempre con grandissima attenzione al mezzogiorno perché penso che nessun progetto di Italia possa prescindere dalla riscossa e riscatto di questa parte del paese. Ma credo che anche queste elezioni ci digano che noi abbiamo un problema enorme di classi dirigenti, locali, oltre che di progetto nazionale. Ripensare il mezzogiorno non come un luogo dove riproporre una vecchia politica, ma dare la possibilità a questo mezzogiorno di liberarsi da tutti gli interessi che lo vogliono tenere soggiogato al di là di chi governa. Molte giunte si sono succedute, diversi colori, ma in Calabria nel mezzogiorno hanno governato sempre gli stessi interessi. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Nel frattempo l'onorevole Davide Mattiello, già relatore della riforma del codice penale in materia di voto di scambio, è stato sentito in Commissione regionale antindrangheta presieduta da Arturo Bova. Ampliare il raggio d'azione della Commissione antindrangheta. Questo l'obiettivo che si è posto il Presidente dell'organismo Arturo Bova, che ha depositato negli scorsi giorni una proposta di legge per inserire tra i compiti della Commissione anche la lotta alla corruzione. Rifacendosi alle modifiche recenti al codice antimafia, che sono state illustrate ai commissari da uno degli estensori, l'ex deputato del PD Davide Mattiello, che Bova ha interpellato per avere autorevole conferma della bontà della strada intrapresa. Ritengo che potrà dare conforto a quello che sostengo io, di banare ogni dubbio e ad accelerare i tempi. Faccio un esempio, altrimenti io non potrò convocare una Commissione, ad esempio su vicende Sacral, vicende Anas, una serie di vicende che attengono alla pubblica amministrazione, ma che ahimè sappiamo poi costituiscono l'antefatto o l'anticamera di altri vicendi. Mattiello è convinto che l'estensione alla corruzione degli strumenti di lotta alla criminalità sia indispensabile ed esclude il rischio di un eccesso di repressione. Fatta la norma non è mai concluso lo sforzo, ecco perché bisogna dibattere, bisogna comprendersi, bisogna continuare a dialogare tra pubblica amministrazione, politica, magistratura, proprio perché le norme vanno fatte vivere, non basta scriverle. Detto ciò, serve e come questa estensione, perché questa estensione è figlia di una comprensione, la comprensione che sempre più spesso le organizzazioni mafiose penetrano nell'organizzazione economica, amministrativa, sociale, attraverso la corruzione. Riccardo Tripepi per la CNews24. E adesso quella mobilità negata ai disabili di Corigliano Rossano, pronto un esposto del Movimento 5 Stelle. Scoppia la polemica attorno al caso dei ragazzi diversamente abili, che non riescono ad avere accesso ai servizi riabilitativi pubblici. A sollevare la questione, che sta creando non pochi disagi ai giovani portatori di handicap di Corigliano Rossano e alle loro famiglie, è il Movimento 5 Stelle, che attraverso la corposa deputazione parlamentare ha presentato un esposto al responsabile dell'unità operativa tutela disabili dell'Aspi di Cosenza, Pietro Filippo, e alla Commissione Prefettizia Comunale. Sì, sono intervenuto perché ho letto che è stato interrotto un rapporto per quanto riguarda il trasporto disabile sia per la scuola che per la riabilitazione. Io credo che i diritti devono essere rispettati perché i diritti sono fondamentali. Ho scritto una nota, PEC, all'Aspi di Cosenza, al dottor Pietro Filippo, che è responsabile della tutela disabili, alla triade commissariale dell'uomo comune Corigliano Rossano e al garante per l'infanzia, dottor Marziale, informandolo della situazione. Bisogna cambiare atteggiamento in Calabria. I diritti devono essere rispettati, specialmente per le persone più deboli. E' un problema quello dell'accompagnamento dei disabili che, soprattutto nel territorio dell'ex comune di Rossano, si protrae da oltre un anno, ma che oggi necessita di una risoluzione in tempi brevi. Io vigilerò su questa situazione, sono anche in Commissione Affari Sociali, quindi mi attiverò con tutta la forza istituzionale per risolvere queste problematiche. Marco Lefosse per la CNews24. Tutto questo mentre a Crotone ha zerata la giunta comunale. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha azzerato la giunta. Questo cambio di rotta si è reso necessario per rilanciare l'azione politico-amministrativa a favore della cittadinanza, così come indica il decreto sindacale dell'11 giugno. Dunque, a due anni dall'insediamento, il primo cittadino ha deciso di rimescolare le carte e dare vita a un nuovo percorso. I nuovi assessori saranno decisi e comunicati nelle prossime ore. Sotto i riflettori, al momento, sarebbero tre gli assessorati prossimi al rimpasto. Quello ai lavori pubblici, guidato fino ad oggi da Tommaso Sinopoli, che dovrebbe essere affidato a Leopedace, ex presidente di Crotone Sviluppo, società in house del comune, che dovrebbe essere presiduta da Gianfranco Turino, membro di missionario dello staff di Pugliese. Il nuovo assessore alla cultura dovrebbe essere il consigliere comunale Franco Pesce, al posto di Antonella Cosentino, la quale perderebbe anche la carica di vice sindaco, destinata all'assessore al bilancio Benedetto Proto. In ultimo, l'assessorato al verde pubblico, che dovrebbe essere affidato alla consigliera comunale Valentina Caldieri, al posto della collega di laboratorio Crotone, Caterina Caccavari. Infine, quattro assessori dovrebbero mantenere le deleghe, e si tratta di Salvatore De Luca all'urbanistica, Giuseppe Frisenda allo sport, Alessia Romano alle politiche sociali e Sabrina Gentile alle attività produttive. L'operato di questi ultimi tre, però, sarebbe sotto osservazione da parte della coalizione politica. Giuseppe Laratta per la Cineus 24. Ci spostiamo alla Mezzia Terme, dove questa mattina hanno incrociato le braccia ai dipendenti comunali. Guardate. Iniziamo il percorso il 6 settembre con la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati, che prevedevano la liquidazione di quelle spettanze. Noi vogliamo essere retribuiti per il lavoro prestato, che dà diritto ad un salario accessorio. Dopo lo stato di agitazione, lo sopero. Hanno incrociato le braccia per due ore i dipendenti del comune di La Mezzia Terme, guidati nella loro protesta dei sindacati Will e Dicap. I lavoratori lamentano il mancato pagamento di circa 1.800.000 euro di salari accessori. Dal 2013, secondo una stima sommaria, ogni dipendente avrebbe dovuto avere 2.000 euro che non gli sono stati dati. I lavoratori prestano, continuano a prestare attività che danno diritto a salario accessorio che deve essere contrattato e di conseguenza si sta prestando salario accessorio in maniera del tutto impropria. Dal 2013, secondo una stima sommaria, ogni dipendente avrebbe dovuto avere ogni anno 2.000 euro che non gli sono stati mai dati. E nonostante lo sciopero fosse stato annunciato con ampio anticipo, nessun componente della triade commissariale si è fatto trovare in loco, preferendo andare alla cerimonia dell'offerta del cerovotivo a Sant'Antonio. C'è stato l'assoluto silenzio e l'assoluta indifferenza. Questo è inaccettabile perché è rispettoso e riguardoso dei principi elementari delle relazioni sindacali. Probabilmente bisogna guardare i fondi, il fondo certificato, che praticamente c'è qualche problema. Tiziano Abagnato per la CNews24. A Catanzaro invece illustrati i risultati conseguiti grazie alla raccolta differenziata dei rifiuti. C'eravamo anche noi. Devo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a rispettare attraverso le regole anche questo bel risultato che abbiamo raggiunto del 65%, sono i dati del mese di maggio, che ci ha permesso di prendere sicuramente i tre premi, ma soprattutto di portare avanti questo sistema dei rifiuti lato, che come sapete sicuramente sono stati appaltati in impianti tecnologici alli per oltre 60 milioni di euro e credo che a Catanzaro appena verranno consegnati questi impianti non avranno più problema dei rifiuti per i prossimi 100 anni. Nel mese di maggio a Catanzaro sono stati raccolti in maniera differenziata il 65,29% dei rifiuti. È il dato emerso nel corso della conferenza stampa sui risultati della raccolta differenziata a Palazzo De Nobili, a due anni dall'accordo siglato con il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. Qui a Catanzaro è stato fatto uno splendido lavoro, tra l'altro in un arco temporale molto ridotto, perché la città è decisamente una città pulita. Nell'ambito del meridione, che sappiamo tutti che spesso non performa in maniera eccellente nell'ambito ambientale, questa è una realtà che è meritevole di ogni attenzione. Dunque numeri importanti anche per l'assessore al ramo Domenico Cavallaro, ma è necessario proseguire con forza e determinazione per fare sempre di più, cercando di raggiungere entro il 2018 il 70%. Tra qualche mese verranno realizzate le impianti di videosorveglianza per tutta la città di Catanzaro, proprio ieri abbiamo avuto una riunione in prefettura, tra il mese di settembre e ottobre potremmo cominciare ad avere le prime telecamere. Rossella Galati per la Cineus 24. Siamo allo sport, al calcio e soprattutto alla febbre da Serie B a Cosenza. Tutti i tifosi del Cosenza vogliono raggiungere Pescara per seguire la finalissima contro il Siena che vale la promozione in Serie B, ma la trasferta si presenta come una corsa d'ostacoli, l'insidia maggiore rappresentata dalla capienza limitata dello stadio adriatico, appena 20.000 posti, 20.000 come il numero dei sostenitori presenti sugli spalti del San Vito Marù la domenica scorsa. La prevendita ad appena 4 giorni dalla partita ancora non è cominciata, il servizio è affidato all'e-sticket e l'acquisto online è bloccato, mentre l'unico punto vendita della città, il bar Bruni di Viale Cosmai, dispone di un numero limitato di tagliandi, circa 400, di gran lunga e inferiore alla richiesta ed è in attesa del Via Libera per procedere alla vendita. Chi ha tempo e voglia si è già messo in fila senza sapere quando sarà possibile comprare il biglietto. Siete qui per comprare il biglietto, però non è possibile ancora? No, ancora non è aperta la vendita purtroppo, perché non hanno ancora disponibilità dei biglietti. Andrete in trasferti in pullman? 9 posti, pulmino 9 posti, ma saremmo andati anche in bici per vedere questa magica partita che ci regalerà tante emozioni. Noi andiamo fino alla fine a pescare, a giocarcela tutti, forza lupi, siamo grindosi di partire. Ci sono inoltre difficoltà nel reperire pullman, l'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi verrà pensato anche ad un treno speciale, ipotesi subito scartata per i costi esorbitanti e per i problemi di sicurezza. C'è anche l'idea di allistire un maxischermo nello stadio per consentire ai tifosi che dovessero essere impossibilitati a seguire la squadra in trasferta di assistere insieme al match. Ma bisognerà fare i conti con le pessime condizioni climatiche previste per sabato sera. Salvatore Bruno per la CNews24. Intanto proprio il Cosenza Calcio ha comunicato che la vendita dei biglietti per la finale pre-off contro Siena partirà successivamente alle determinazioni del gruppo operativo di sicurezza in programma domani alle 16 nella questura di Pescara. E adesso il volley partito, il nuovo corso della Tonocalipo Calabria. Il motore è ufficialmente ripartito come il nuovo corso della Tonocalipo Calabria che dopo aver dato il benvenuto al nuovo direttore sportivo Nini De Nicolo, riabbraccia Nico Agricola, l'uomo che ha scritto pagine importanti del club giallorosso e che oggi ritorna alla base con l'obiettivo di riorganizzare e potenziare il settore giovanile ed affiancare il DS nella costruzione della prima squadra. È una bella sfida, spero di fare il mio lavoro bene e chiaramente adesso mi sto guardando un po' intorno per cercare di capire come impostare la stagione e soprattutto di fare il mio per cercare quelle forze, quegli input importanti per partire bene. Spero di trovare un ambiente entusiasta del mio ritorno e con molta umiltà, con molta attenzione cercherò di svolgere il mio lavoro cercando appunto di mettere radici nel settore giovanile e cercare di dare uno sprint notevole. Intanto a Vibo starebbe per sbarcare il palleggiatore croato Zimafey Zhukovsky, ex Civitanova, a confermare l'indiscrezione. Lo stesso giocatore al quale la Callipo dovrebbe affidare la cabina di regia del nuovo gruppo targato 2018-2019. Alessio Bonpasso per la Cineus 24. Ci sono tante novità anche nel volley soverato in A2 femminile. Queste ragazze che abbiamo preso, diciamo tutte nuove, devono essere motivate ad avere ambizioni per raggiungere obiettivi. Insieme ad un allenatore che vuole ritornare ad essere il grande allenatore del passato, ci sono tutti gli elementi per fare di sicuro un grande campionato. Campionato nuovo, squadra nuova, la volley soverato del presidente Antonio Matozzo scenderà in campo per il nono campionato di A2 femminile per la squadra ionica con 12 nuove giocatrici e un nuovo allenatore, Bruno Napolitano, nato a Napoli ma calabrese d'adozione, che porterà a soverato una grande esperienza avendo allenato diverse squadre di A2 e A1. Noi abbiamo iniziato con questo nuovo allenatore di cui sono orgogliosissimo perché è di Catanzaro, abbiamo lo stesso entusiasmo, la stessa cattiveria sportiva. Intanto sono già state annunciate le prime nuove giocatrici bianco-rosse. Abbiamo fatto già quasi tutti gli acquisti, quattro le abbiamo già annunciate alla Lega Volli, una di queste è la nazionale Under 23, la Baldone che è il palleggiatore di 1,87 m, giovanissima di 20 anni, la Tanase che è un'attaccante giovanissima nazionale Under 18, il nuovo libero che è la Napodano che è il secondo libero di Pomica Salmaggiore. Dunque nomi importanti con i quali Matozzo è pronto a lavorare per raggiungere l'obiettivo, la serie A1. Quest'anno facciamo di tutto per andare direttamente in A1, non voglio fare i play-off perché non ci portano sicuramente molta fortuna, li ho fatti tante volte, li ho perso sempre. Tutto dipende da come noi riusciamo ad assemblare questa squadra e dare le giuste motivazioni per raggiungere l'obiettivo. Rossella Galati per la CNews24 Per il momento ci fermiamo qui, torniamo alle 20.30, grazie. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La CNews24, la Calabria che fa notizie.